Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti agli A Giusta Film, il podcast dove Damiano e Enrico si sorbiscono dei film abbastanza ignobili e tentano in qualche modo di rimetterli a posto solo per voi, per voi e solo per voi, perché noi soffriamo e basta. Mannaggia a voi, mannaggia. Infatti, i mortacci vostri, cominciamo subito bene questa puntata. Io sono Damiano, sono un ricercatore media e videogiochi in Italia e appassionato di cinema da sempre. Io sono Enrico, dialoghista nel mondo del doppiaggio, autore del blog Doppiaggi Italia Odi. E oggi parliamo di una mortacci vostri, è Vanzina che ci involgarisce, vero? Eh sì, ogni volta che vediamo un film di Vanzina finiamo per invocare i nostri antenati, vari santi. E loro antenati, e loro antenati pure. No, ma dico, ma vogliamo inaugurare la rubrica I mal ricordati, perché qui dopo Fracchia contro Dracula, anche questa volta secondo me c'è stato un ricordo che ci ha tratto in inganno, che dici? Sì, sì, sì. La percezione era di un film che poteva essere forse divertente, forse molto salvabile. E invece, no, mai fidarsi della memoria di cose poi neanche viste, perché io non credo di averlo mai visto per intero. Noi siamo nella prima parte della nostra rubrica, quindi come lo conoscevano? Sì. Chiaramente dalla eterna fama che aveva quando andavamo alle superiori, forse alle medie, non mi ricordo. Di quando è questo film? 94, quindi. 94, vabbè, allora elementari. Sì, 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 elementari medie direi, sì. E SPQR, vabbè, a me, per me questi film erano praticamente proibiti in casa, quelli di Vanzina, quindi sono, sono... Ora mi trovo qui a parlare di tanti film di Vanzina, penso sia una sorta di vendetta, di Will Carmac. Un contrapasso vanziniano più che dantesco, potremmo dire. Se per esempio nel mio lavoro, io lavoro su tante serie tv, io non guardo serie tv, odio le serie tv, preferisco i film, anche qui in questo caso, questi film di Vanzina, che ho sempre un po' evitato, un po' ignorato, molto ignorato, e un po' schifato per principio. Ora ci ritroviamo a riscoprirli un po' per curiosità, anche per vedere, ma vediamo questi famosi Vanzina che hanno fatto, e qui cominciano i primi grandi dubbi, ma perché questa roba è famosa? Mannaggia a noi! Queste sono le ottime domande a cui noi non abbiamo mai risposta. No, no, non ci sarà mai una risposta. Dobbiamo mettere l'anima in pace. Sì, io ovviamente confermo quello che hai detto su come lo conosciamo. Io ricordavo bene alcune scene, quindi qualche pezzo l'avrò sicuramente visto, ma illo tempore, quindi non di recente sicuramente, ma ricordavo più che altro la serie tv. Infatti mi ero anche fatto questo ricordo errato che la serie tv in realtà fosse prima, invece in realtà è dopo, quindi vi anticipiamo già che nel 98, quindi quattro anni dopo il film, è stata fatta una serie tv con, tra gli altri, Antonello Fassari, che riprendeva appunto un po' la storia a grandi linee del film. Il che fa pensare che comunque il film, sicuramente attraverso varie repliche tv, avrà avuto la sua grande popolarità per giustificare una serie tv, no? Sì. Anzi, c'è anche il seguito a spasso nel tempo, quindi di sicuro è andato benissimo questo SPQR. Il box office ti stupirà, ma non ti dico altro. Wow, ce lo vediamo per dopo, certo. Poi ci arriviamo. Dunque, purtroppo dobbiamo parlare della trama, e dico purtroppo perché, ahimè, non porterà alcuna soddisfazione, credo, a nessuno. Dunque, apriamo su il nostro Christian De Sica, che fa un senatore romano ovviamente corrotto, Cesare Atticus, che è a Capri, in vacanza con l'amante, e viene richiamato a Roma perché c'è una votazione importante e viene richiamato dal senatore cinico, che è niente cocò di meno che Leslie Nielsen, in uno dei ruoli peggiori che penso abbia fatto. Insomma, ne ha fatti parecchi di cose bruttarelle all'epoca, ma qui penso sia veramente sprecato. Pazzo, ma poi ci torneremo. Più che altro usato male, diciamo così. Sì, quindi il nostro Cesare torna appena in tempo per questa votazione, tra l'altro sulla legge sull'immigrazione. Qui iniziamo subito con le ammiccamenti, ammicca, ammicca, auga, auga. Non sono ammiccamenti, sono proprio detti paro, paro, non vogliamo i negri, non vogliamo questi, non vogliamo quegli altri. Diciamo che il film non è che fa sottintendere qualcosa. No, 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 è tutto copiato e incollato, mani pulite, tutto quello che andava di moda nel 94 è stato preso e incollato, senza un minimo di critica sociale, proprio copiato e incollato così com'era. Abbiamo detto, insomma, apriamo subito un po' in picci di partito, poi conosciamo Massimo Boldi, ovviamente, che fa il giudice, il magistrato, giunto ovviamente da Milano, si scontra subito, proprio letteralmente, con De Siga, si insulti, eccetera, eccetera, e poi scopriamo che Boldi in realtà alloggia nella villa, nella casa, pardon, di proprietà del nostro Cesare Atticus, che tra l'altro c'è l'agente immobiliare col molto originale nome Lucio Sola, che non gli vuole fare la ricevuta, e quindi lì già il giudice inizia a subdorare che questo Cesare Atticus nasconda, insomma, se non altro l'evasione fiscale, tra le altre cose. Vabbè, chi se ne frega, ovviamente, ma insomma chi se ne frega lo possiamo dire un po' per tutto. Il nostro De Siga, poi che fa, cambia amante, quindi qui possiamo vedere esattamente le stesse cose che avremmo visto poi in Simpatici e Antipatici, quindi esattamente la medesima situazione, perché il nostro qui è sposato con la Nadia Rinaldi, che insulta comunque per qualche motivo, infatti io, non lo so, pensavo fossero altri rapporti, perché apriamo con degli insulti, solita grassofobia De Siga ovviamente, anche qui se volete fare il drinking game De Siga finita in coma etilico dopo circa dieci minuti, non c'è lo swing, vabbè, quello purtroppo non ce l'abbiamo, ma sul resto ci siamo. Non è riuscito a metterlo. Purtroppo no, ma sul resto ci siamo. Quindi ovviamente la Rinaldi è quella che porta i soldi a casa, diciamo, è quella che ha il collegamento col Senato, quindi lui di nuovo ha la situazione in cui non può mandare a fanculo la moglie, perché è la moglie che lo tiene, diciamo, per la gola, e quindi ovviamente lui si diverte con tutte amanti che deve tenere nascoste, queste pretendono l'attico, insomma, esattamente Simpatici e Antipatici. Esattamente la stessa trama di Simpatici, incredibile, incredibile che ripropongo. Ora, noi ancora non abbiamo esplorato tutta la carriera di Siga, ma comincio a sospettare che troveremo la stessa trama in molti altri film. Sì, sì, sì. No, anch'io questa nettissima sensazione, che poi è quello che succede se uno inizia a guardare i film di villaggio un pochino meno conosciuti, è esattamente la stessa cosa, inizia a rivedere sempre le stesse battute. Quindi il nostro giudice riceve l'amante, insomma, arrabbiata, l'ex amante del nostro Atticus, che è stata sostituita con un'altra, e quindi lei, insomma, lo vuole denunciare, e quindi inizia tutta una storia per cui il nostro Boldi deve essere screditato, quindi De Siga paga tutte varie prostitute, tra cui c'è la nostra Anna Falchi, che lo vogliono mettere in mezzo, quindi, insomma, alla fine il nostro viene trasferito a Filicudi. Il povero giudice viene punito perché è beccato in flagrante con tutte varie meretrici e quindi viene spedito a Filicudi. Qua sembrerebbe, appunto, tutto risolto per il nostro senatore, invece Boldi torna praticamente subito, non vi spieghiamo, insomma, tutta una cosa mezza de mafia, chi se ne frega, andiamo avanti velocemente, tanto non interessa nemmeno al film, e a proposito di non interessa nemmeno al film, abbiamo anche una piccola sottotrama sentimentale dei due figli, dei due, diciamo, nemici, quindi i soliti Romano versus Milanese, De Siga Boldi, che si innamorano tra loro. Una cosa che viene introdotta a un certo punto, così per giustificare il fatto che i due diventeranno amici a un certo punto, e poi non torna mai più, finisce lì. Cioè, io mi aspettavo quando lui viene mandato a Filicudi che ci fosse una scena in cui la figlia diceva ah, ma così non vedrò più, non so come cacchio si chiama il figlio di De Siga, insomma, invece no, quindi proprio al film non gliene frega assolutamente nulla, quindi allo spettatore direi ancora meno. Vabbè, insomma, alla fine De Siga si mette d'accordo col giudice per consegnargli Nielsen, che ovviamente è il cattivone finale, il boss finale, no? e i due, che cosa fanno per... non c'è ovviamente altro modo per risolvere la cosa, si travestano da donne per entrare nella villa del nostro. E lì iniziano 20 minuti in cui non... Un'ovvia risoluzione. Esatto, un'ovvia risoluzione. 20 minuti in cui non succede assolutamente nulla, non vengono scritte battute, perché evidentemente De Siga e Boldi con le tette finte sono abbastanza divertenti per reggere 20 minuti di film completamente inutili. Perché impegnarsi a fare altro, a scrivere cose? Ah, non mi scherzi. Insomma, vabbè, dopo anche una terrificante scena finale di vari slapstick arrivano al processo, riescono a trovare questo libro che metterebbe in mezzo appunto Leslie Nielsen come capo del partito, ma in realtà ovviamente vengono condannati loro a lavori forzati e prendono parte alla rivolta di Spartaco, vengono... sto andando veloce perché mi sono già rotto le palle... vengono crocifissi sulla via Appia e mentre lì sulla croce passiamo a duemila anni dopo e vediamo che chiaramente duemila anni dopo niente è cambiato perché vediamo il De Siga di oggi che scontra con la macchina contro Boldi e i due litigano un'altra volta e quindi niente è cambiato. Oh oh, che bella finale. Mannaggia la p***a. Allora, questo film ha la presenza di Leslie Nielsen che è al centro della copertina. Abbiamo visto di recente anche una copertina tedesca in cui Nielsen è molto grande rispetto a Boldi e De Siga ai lati. Sì. Quindi immagino la delusione all'estero di vedere un film spacciato come in qualche modo appartenente alla pallottola spuntata perché in tedesco praticamente è come se si chiamasse una pallottola romana. Lo adatto io così, quindi immagina la delusione. Nielsen compare... Una biga spuntata. Una biga spuntata, esatto. Penso che Nielsen compaia forse per un totale di... Esageriamo un quarto d'ora, dieci minuti? Sì, sì. Hai anche esagerato, però sì, non di più. Ho esagerato. Dieci minuti forse, forse anche un po' meno. Ha dei dialoghi, non è che compare e basta, però... Ed è il cattivo finale, cioè è il senatore più corrotto che cercano di far venire fuori ma non gli riesce. Bizzarra la sua presenza, perché chiaramente è ispirata ai vari film della pallottola spuntata, a quel tipo di comicità che però è presente solo nei momenti in cui compare Nielsen, come se fosse un suo superpotere, no? Portare quel tipo di comicità nel film. L'ha scritta lui, è arrivata lui e l'ha scritta lui. Ovviamente non è vero, la sceneggiatura è dei soliti fratelli Vanzina. Sì, sì, almeno il soggetto, poi bisogna vedere le singole battute. Comunque l'idea di inserirci... No, no, ma è loro perché l'hanno vista e non l'hanno capita. Cioè l'hanno importata senza capirla. Ci sono due caratteristiche particolari. La prima è che è sempre accompagnato da uno dei senatori che finisce per essere vittima di, che ne so, della serie gli butta la buccia di banana e quello ci casca sopra. Oppure lascia cadere delle cose sulla scalinata del Senato e quello ci scivola sopra. Insomma, questa è la vittima. Cioè il resto del film non ha comicità simile, quindi vabbè, potrebbe anche essere un po' fuori luogo. Ma non mi ha disturbato. Come dicevo, è un po' il superpotere di Les Lins. C'è lui, allora succedono cose in stile, pallottola spuntata. Non credo che per lo spettatore serva ulteriore spiegazione. Per giustificare questo. Però allo stesso tempo non sanno scrivere quel tipo di commedia. Quindi ci sono scene assolutamente bizzarre. Tipo lui che quando sono alle terme e De Sica gli dice che è nei guai perché questo il giudice lo vuole denunciare, eccetera, eccetera. E Leslie Nielsen, dopo avergli spiegato questa cosa, Leslie Nielsen diceva, vabbè, a me non me ne frega nulla, tanto io non sono coinvolto, non c'è il mio nome da nessuna parte. Si alza e ha un'erezione enorme sotto l'asciugamano. Cosa che non è preceduta da niente che possa giustificare questa cosa. Lui se ne va, la scena taglia, finisce, riprende in un'altra sezione delle terme in cui sembra che Christian De Sica ricominci da capo a spiegare che sono nei guai, c'è questo problema. E ti dici, ma questa scena, a parte non ha senso la gag, perché, ok, cosa fa ridere perché ha un'erezione enorme, perché dovrebbe averla, non ha senso. Sì, lo stavano massaggiando, ma... Sì, ma neanche... Sì, appunto, ma queste cose, insomma, vanno un po' precedute da qualcosa che lo giustifichi, sennò non ha senso la battuta. Cioè, non è una battuta, è uno all'improvviso, senza motivo, ha un'erezione enorme. Forse è una palotta spuntata a 33, un terzo? Forse c'era qualche... Non lo so, chissà, l'hanno vista da qualche parte, l'hanno messa. Secondo me, ce lo dicevamo, secondo me quella è aggiunta in più, perché, appunto, non ha senso il taglio che fa il film poi su una scena seguente in cui un po' si rispiega la stessa cosa. E sembra proprio appiccicato lì, malamente. Quindi questa presenza di Nielsen è proprio inserita male, perché poi comunque sul finale, per esempio, fa ridere la sua ringa dove dice, praticamente, il vostro benessere qui è dovuto a tutta la corruzione che porta i soldi a Roma che vogliamo fare, buttare tutto all'aria per questi morti di fame e quindi tutti votano, alla fine, contro la giustizia e contro i nostri protagonisti. Quella è una cosa comica, arriva proprio negli ultimi cinque minuti e fa ridere poi doppiato con la solita voce di Sergio Rossi che è perfetto su Leslie Nielsen. Per il resto è usato malissimo. Avrei voluto vederlo di più, ma ha scritto meglio, ma i Vanzina non possono scrivere i personaggi di Leslie Nielsen, quindi è meglio che non lo facciano. Non so se volevi dire qualcosa su Leslie Nielsen, la presenza di Leslie Nielsen. No, ma l'ho già detto. Per me è sprecato comunque, un attore era molto dotato insomma anche sul drammatico oltre che sul comico, ma onestamente qui di comico fa molto poco e per il resto fa veramente zero. È messo lì solo per motivi di cassetta, diciamo, insomma, per attirare. Ti assicuro ci sono film peggiori suoi. Sì, sì, ci credo. Ci dispiace per l'occasione sprecata, perché poi in 94 erano i suoi anni proprio, quelli in cui veniva abusato di più. Sì. Poi abbiamo riferimenti, ovviamente invecchiati malissimo, tipo il Ma che sono su scherzi a parte. Mamma mia. Sì, ancora oggi si capisce, ma non ha alcun senso nell'ambientazione romana. E poi cose anche vanno spiegate ai minori di 35 anni, tipo il Boldi che si era improvumato e poi all'improvviso fa Egoiste, egoiste, egoiste e finisce lì la battuta. Questa la capiscono solo chi ha più di 35 anni. Sì, lì siamo proprio sui pseudo-quarantenni. Se vai pure poco meno, pure già 37, 38... Si fatica, si fatica. Quindi è proprio una roba per vegliardi. Sì, ovviamente è un riferimento a una pubblicità in cui c'era questo che si affacciava alla finestra e urlava Egoiste, Egoiste, in una pubblicità dell'improvumo. Questa mo' valla a spiegare 30 anni dopo. Anche perché non è rimasta neanche... All'epoca era molto memorabile, me la ricordo, c'erano anche delle parodie, quindi sì. Ma a parte del 94 era già un po' tardi, onestamente, per Egoiste, ma ok. Ma poi dopo il 98 è proprio sparita del tutto. Cioè, anche mettendo... Siamo nel 94, la capiamo tutti, tutti quelli che vanno al cinema la capiscono. Il modo in cui è fatto è proprio stupido. Cioè, buttata lì, della serie, ok, l'ho detta, andiamo avanti. Io odio Bold. Odio i personaggi di Bold. Non odio Bold persona, odio i personaggi di Bold. E questo, purtroppo, questo film ha troppo Bold. È il grande problema di questo film, ha troppo Bold. Io, De Sica, lo sopporto tantissimo. Comunque, risulta simpatico, sa recitare, sa fare le parti comiche. Bold, io continuo a dire che non ha una sua commedia. Tu puoi riconoscere, riconoscere Pozzetto. Dice, ok, questo è Pozzetto. Villaggio, c'ha i suoi personaggi. De Sica, c'ha i suoi. Bold è un mix di cose rubacchiate qua e là. Citazioni a caso tipo egoiste. E non sai mai, cioè, a parte il tachicardia, tatatata. E accenti che fa ogni tanto a caso, tipo romano. A parte quando fa tachicardia, tatatata, che qui non fa, tra l'altro. Per il resto, non... Oppure dolore, dolore pazzesco. Esatto. A parte queste due battute tormentoni, poi per il resto non puoi definire Boldi qual è la commedia. Perché? Perché sta a scopiazzare, a scimmiottare tutti gli altri, quasi come se già facesse delle citazioni di altri colleghi che però sono contemporane, non sono di anni prima. Poi si butta sempre a fare queste imitazioni di accenti di altre regioni che non sa fare, ma neanche lontanamente. forse la gag è il fatto che non le sappia fare, ma non fa ridere. Quindi una gag che non funziona a prescindere. Quando si mette a fare il romano è terribile. Il siciliano non ne parliamo quando lo mandano a fine code. I brividi, i brividi, vengono i brividi a ripensare a lui che poi gli accenti. E poi qui c'è l'altro problema che è il fatto che tu hai comunque un film che è ambientato nell'antica Roma e il casta di contorno è molto molto povero, è piuttosto infame. Sì, abbiamo la Rinaldi che vabbè se la cavicchia come al solito fa sempre il medesimo personaggio e la Falchi che fa un accento romagnolo un pochino troppo spinto per i miei gusti, ma va bene. Poppea. E per il resto niente, c'è proprio nulla, non c'è niente che si possa, nessuno che si possa definire un comprimario, un qualcuno romano, un qualcuno così, c'è Riccardo Rossi che fa il già citato Lucio Sola ma una scena una e poi non viene mai più oppure abbiamo un cameo di Massimo Ceccherini che mi ero anche dimenticato è completamente inutile ma per il resto c'è il solito Francesco De Rosa che è l'unico che mi ha strappato con le due risate forse ricordiamo insomma il comprimario napoletano di Febbre da Cavallo penso che è un ruolo più noto sicuramente ma per il resto niente, hai ambientato nell'antica Roma non c'hai un attore romano che fa ridere De Sica ok ma non c'è nessuno che potevi prendere appunto noi abbiamo citato il buon Bernabucci anche se vabbè all'epoca era un pochino anziano però una bella particina da senatore a Bernabucci che faceva una bella cosa delle sue se io l'avrei vista perfetta no per carità non vogliamo cose divertenti questa sceneggiatura è di nuovo il Vanzina che butta lì cose a parte riciclando cose già fatte ma è tutto buttato lì quindi ha citato egoist cose che non hanno senso tipo perché un giudice dovrebbe allo stadio vedere il senatore sapendo pure che è padrone di casa e a volerlo andare a menare così ma perché quel senso ha nella sua esistenza e poi perché doveva essere uno scandalo trovare o un senatore o un giudice in una casa di piacere non si capisce neanche quello c'è una morale democristiana all'epoca dei romani ho letto che sono riferimenti a tangentopoli quindi a varie situazioni italiane quindi magari era quello un po' mi sembra un po' strano tipo lei allora la devo licenziare perché hai trovato un romano in una casa di piacere ma dubito che questo potesse essere causa di licenziamento non che questo film voglia essere storico chiaramente c'ha vari ammiccamenti non ci aspettiamo che questo film sia storico però anche lì non riesce a decidere che tipo di commedia essere tipo sì alcune cose tipo per esempio col cibo sono stati attenti a fare dei cibi che potevano esistere diciamo così però poi magari mi fa la battuta su scherzi a parte non è che la integra in modo divertente tipo uno potrebbe dire questa sequenza di parole all'epoca romana perché comunque esisteva anche la parola scherzi forse a parte invece no la dice che cosa sono su scherzi a parte cioè proprio implichi che tu sei sul programma scherzi a parte è così stupido che non buttato lì buttato lì perfetta la descrizione di questo film sul finale poi succede un po' di tutto la corsa dei cavalli dove scappano dal senatore in cui per far correre il cavallo lo dobbiamo descrivere perché per capire il livello di elevazione in cui i nostri protagonisti mettono il peperoncino nell'ano del cavallo e questo cavallo così corre più veloce qui siamo a chiaramente praticamente ai cartoni animati ancora una volta sì torniamo ai luni toons torniamo a fracchia conto drago ritorniamo un'altra volta su quell'humor che lì non c'entra niente poi panzina perché non c'erano non c'erano di panzina però purtroppo c'era la commedia italiana la riconosci dalla dalla puzza puzza già da fuori dentro è una fogna no a me mi veniva in mente mentre parlavi la scena della discoteca dove vengono appiccicate canzoni dance classiche dell'epoca quindi i vari cappella tutti questi così prese in collage non si prova neanche dice vabbè magari una canzone dance ma ci mettiamo il latino che ne so così vedi almeno un minimo di sforzo ce l'hanno messo no canzone in inglese buttate lì discoteca pure suonare l'abbiamo visto sui social sono cose anche divertenti suonare pezzi moderni ma con strumenti diciamo così antichi però sarebbe stato divertente no sì invece no nella scena della discoteca si abbandona l'idea ok siamo a Roma finora si erano impegnati abbastanza diciamo così lì c'è luci che lampeggiano non mi ricordo se c'era pure la palla che girava ma insomma disco dance sembrava la scena presa cioè che sarebbe stata poi riproposta anche in simpatici quando vanno in discoteca e ti dici ma che cazzo c'entra in questo secondo me perché per contratto dovevano mettere la canzone popolare al momento l'hanno messa lì hanno fatto la scena apposta per scrivere strano perché poi per il resto comunque cercano abbastanza di limitarsi in quella che era l'ambientazione romana per quanto possibile a parte le battute di scherzi a parte e questa proprio lì si sono sbizzarriti luci che lampeggiano di tutto certo che una discoteca con le fiaccole sarebbe stata un po' triste però si poteva fare qualcosa di più divertente appunto far suonare cose moderne con strumenti un po' più antichi e no niente di tutto questo perché quello sarebbe stato un impegno in più no perché impegnarsi chiaramente non ci interessa non interessava a nessuno dei convolti di impegnarsi minimamente a proposito di impegno zero ti ricordi quando compare per penso una sola scena un narratore così esterno ah sì sì che tu ti sei incazzato questo è verso la fine serviva palesemente per appiccicare due sequenze del film che altrimenti non avremmo capito allora c'è il narratore che compare per spiegarci il passaggio da una scena all'altra perché i sceneggiatori non erano in grado di integrare la spiegazione all'interno del film secondo me l'hanno chiamato così ma qui non si capisce allora dice vabbè mettiamoci il narratore un po' come Blade Runner quando uscì Blade Runner la Warner non voleva stranire il pubblico allora ci ha messo la narrazione su tutte le lì compare per una sola scena che tu a quel punto dici ma chi cazzo è che narra perché di solito il narratore dovrebbe avere un senso tipo magari è che ne so il personaggio da grande vecchio invecchiato che ricorda no no questo è proprio buttato lì non ha neanche quel senso di non mi ricordo se c'era in Sapore di Mare penso di sì 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 lì c'era comunque quelli basati un po' sulla nostalgia un po' rubato da American Graffiti dove appunto ha senso che magari puoi immaginare il protagonista che si ricorda la sua adolescente qui non ha senso proprio messo lì si vede palesemente è per dar senso a due scene che attaccate non avevano senso e non avevano girato abbastanza per far capire cos'era successo a metà e vabbè quella mi ha fatto un po' arrabbiare poi arriva proprio forse a tre quarti di film e non ricompare mai più quindi sì non viene introdotto in nessun modo viene abbandonato immediatamente possiamo dire che finora è tra i più svogliati che abbiamo visto di Vanzina è Vanzina che cerca di imitare neri parenti e non riesce a farlo efficacemente ma più che altro vive di queste due strane anime perché da un lato c'è quel minimo comunque di impegno di non sbragarsi completamente quindi non fare una Roma antica con tremila battute moderne o tutte cose moderne insomma come hai detto tu c'è un minimo si trattengono si trattenuti quindi un pochino non possiamo dire che è totalmente sbragato c'è un po' di impegno però allo stesso tempo quel po' di impegno viene abbattuto da tutte queste puttanate che abbiamo appena detto e soprattutto da una generale proprio sbogliatezza che si proprio si percepisce perché anche appunto De Sica non è particolarmente in parte non fa così ridere a parte vabbè abbiamo la scena che tutti si ricordano ovviamente ho bisogno di una compagna per la vita ma fammi una pompa insomma vabbè chiaramente scene memorabilissime questa è Boldi che canta Puppe a pera quindi anche quella chiaramente arrubbata perché sia mai che Boldi si inventa qualcosa di suo ma queste credo che siano le uniche due scene che qualcuno si può ricordare da questo film e insomma sono un po' così sappi che rivedendo mi è tornato in mente che vedi in passaggio in tv la scena della pompa e lì cambiai canale e dissi ste cose volgari ste cazzate non le sopporto bei tempi bei tempi quindi interruppi lì la visione del film sicuramente lo so ero un po' snob da bambino e da adolescente rilevanza culturale 2023 allora di sicuro un brutto colpo iniziare quando Leslie Nielsen parla di persone nere con la G ma subito proprio 4 minuti di film e già partiamo subito che ci rubano il lavoro ci rubano le donne puzzano proprio ce l'abbiamo tutte per carità è il cattivo va bene poi il 94 ancora era un po' molto al limite ma si è il cattivo che parla però insomma il primo impatto col film non è proprio a prova di 2024 no no è un pochino eccessivo poi soprattutto cioè da una parte noi come spettatori immagino dovremmo capire vabbè erano altri tempi quindi si usava un altro linguaggio però allo stesso tempo sappiamo pure che questo film disperatamente scimmiotta o meglio copia e incolla i trend che erano del momento quindi anche la legge sull'immigrazione lega nord eccetera eccetera quindi chiaramente c'è anche una battuta sul te la ricordi? ce l'abbiamo duro sì sì chiaramente è alla fine la rivolta di Spartaco la marcia su Roma Roma ladrona sì sì diciamo che da una parte potremmo chiudere un occhio su quella scena iniziale dall'altra parte eh insomma non tanto onestamente io sarei curioso più che altro di sapere anche se non lo sapremo mai che cosa avranno fatto dire esattamente a Leslie Nielsen in quella scena insomma se ha detto la famosa n-word oppure no però vabbè temo che non lo sapremo mai questa è l'unica domanda interessante che può portare questo film tipo ma Leslie Nielsen che copione stava leggendo gliel'hanno detto gliel'hanno fatto capire che cosa si stava cacciando ma capito che c'era bisogno dei soldi all'epoca evidentemente insomma perché accettava un po' di tutto però ecco sappiamo perché è popolare sì perché è volgarotto perché forse l'idea era innovativa quella di mettere è un po' il super fantozzi di Boldi e De Sica no mettere loro con le solite dinamiche ma dell'antica Roma posso capire l'attrattiva sì purtroppo il film non fa abbastanza per per rendere questa idea che di per sé è anche sfiziosa diciamo così renderla effettivamente divertente me lo ricorderò sempre tra il noioso e il volgare ci sono sempre ce lo dicevamo ogni scena comica sembra che vada avanti almeno 20 secondi di troppo almeno almeno sì sì taglia 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 ritmo ritmo poi quando loro si vestono da donne lì proprio muore il film perché come dicevi siccome sono vestiti da donne questo dovrebbe fare automaticamente ridere non c'è bisogno di scrivere battute quindi quella scena mamma mia non finisce più mentre io lo vedevo tu l'avevi già visto dice no guarda poi peggiora poi peggiora e dico ammazza peggior di così eh sì e invece ce l'avevo ragione come al solito mannaccio sì Femma va un po' in caduta libera fino alla ringa finale quella fa ridere do già un consiglio di visione guardatevi sulla scena finale con Leslie Nielsen in senato che si difende da solo come nei migliori film americani faccio l'avvocato di me stesso e quindi io capisco è molto popolare questo non gli si può negare non meritatamente purtroppo sì non che non ne capiamo il fascino che tuttora questo film un po' credo comunque continui a portare è ancora peggio il fatto che abbia creato una serie tv del 98 come si aggiusta? allora come si aggiusta guarda è molto semplice si aggiusta guardando Nerone del 1977 con Pippo Franco allora no perché c'è c'è questa cosa che io vi voglio correggere in questa puntata dunque io capisco benissimo l'odio per il bagaglino e pingitore lo capisco lo comprendo perché non l'ho mai sopportato lo approvo però bisogna parlare di due cose diverse allora un conto è il bagaglino e pingitore negli anni 90 che è quello che ci ricordiamo noi di questa generazione è ok però prima prima di metà anni 80 e verso la fine degli anni 70 soprattutto parte del bagaglino ma soprattutto pingitore e Pippo Franco hanno fatto dei film comici che oggi si stanno rivalutando sempre di più ma soprattutto si rivalutano perché noi andiamo a vedere questa robaccia degli anni 90 che appunto continua a vivere di fama mentre questi dipingitori non li conosce nessuno e quindi mi chiedo ma che hanno fatto di male questi poveri film di dipingitore che non se li ricorda nessuno cioè per dire questo di questo Nerone proprio del 77 ha non solo Pippo Franco ma abbiamo Aldo Fabrizi Pombolo e anche Montesano che insomma fa anche una bella particina quindi un cast già migliore comunque in partenza del di SPQR per un'ambientazione romana assolutamente un budget è chiaramente più basso ma comunque usato meglio perché è stato girato proprio a Roma quindi vedete tutte le rovine vere e proprie che ok diceva poco senso col fatto che l'antica Roma non erano rovine ma vabbè transiat su non stiamo ci accontentiamo ci accontentiamo non stiamo a guardare il capello più pure nudità cose insomma è forse un po' più problemata perché ovviamente ci sono un po' di battute chiaramente su parole con la F c'è d'altronde parliamo del 77 insomma quasi una generazione prima di SPQR veramente non che i film anni 90 di De Sica siano migliori anzi chiaro chiaro infatti ci sono anche anche delle delle scene un po' di canzoni insomma è molto non è un film perfetto per carità di Dio anzi meriterebbe forse pure lui una puntata però considerando la differenza di budget e il fatto che sia un film completamente dimenticato Nerone è l'aggiustata di SPQR cioè come fare un film comico divertente ambientato nell'antica Roma senza che non ha neanche dei riferimenti che non capisci più perché io non li capirei insomma perché il 77 sono fuori bersaglio non ci sono neanche dei riferimenti pop che non capisci quindi è tutto insomma comprensibile più o meno divertente non sempre divertente chiaramente però la risate te le strappa a differenza di SPQR che te strappa solo lo sbadiglio e ha dei riferimenti che ormai chiunque sia nei vent'anni adesso non capirebbe mai cioè vanno spiegati come il telefono analogico e il videoregistratore ci sarebbe anche noi faremo delle guide sai come ci sono sui social vari video con i bambini messi davanti a un telefono quelli qua col disco no anche noi metteremo scene di SPQR per poi spiegare che cosa vuol dire perché dice egoista 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 o anche scherzi a parte che ormai insomma anche quello possiamo dire ufficialmente che è persa nella memoria storica no si di sicuro per bambini e molto giovani non penso che sia in qualche modo rilevante no penso anche un ventenne oggi non credo che sappia che cosa sia scherzi a parte onestamente è finito parecchi anni fa o comunque insomma non è più rilevante da un bel pezzo ecco quindi è quasi un programma da te che te ecco insomma da quella da raccolte nostalgiche anni 90 ecco a quello siamo arrivati ragazzi sono passati tanti anni ormai per cui tra l'altro chissà che fine ha fatto quel bello scherzo che avevano fatto a nino manfredi io pagherei per rivederlo con lo scherzo a nino manfredi ok vabbè c'entra nulla era una parentesi quindi niente secondo me si aggiusta così punto e basta si guarda un film molto più a basso budget un cast molto migliore e si capisce che cosa dovevano fare in spqr punto e basta dovevano togliere questi riferimenti pop renderlo più semplice non fare sti copie in colla moderni di mani pulite che non lasciano molto il tempo che trovano semplificare semplificare è un pochino un po' più di passione cioè io capisco Nerone è il primo film del bagaglino quindi vabbè chiaramente era c'era pure sicuramente più passione più attenzione rispetto ad altri che magari sono un po' più ciofeche però santo oddio spqr veramente tutto ci comunica tranne che passione ci comunica proprio solo loffio spento stanchezza puzza fetore l'età cioè proprio è proprio è stank è proprio uff mamma mia in retrospettiva posso dire che i miei genitori facevano bene a farmi evitare questi film esatto dobbiamo dargli ragione dove possiamo vederlo acquistarlo allora dovrebbe esistere un dvd che è sempre in stampa senza problemi e basta non credo ci siano altre alternative chiaro noi l'abbiamo visto in hd su daily motion se volete lo trovate lì ecco detto tra tra amici tra amici detto questo passiamo alla critica e al box office io direi ti dico prima il box office perché come al solito è ricco è ricco è talmente ricco che spqr nella stagione 94-95 si piazza al quinto posto signori miei quinto posto battuto solo da re leone forrest gump e stargate basta questi sono i film che hanno fatto meglio di spqr ha fatto peggio di spqr the mask il corvo true lies intervista col vampiro e sventura la scuola il tuo amato la scuola leon di lucbesson e speed e molto sorprendentemente pulp fiction spqr si si possiamo dirlo che spqr ha avuto più rilevanza culturale più successo più presa col pubblico in italia che pulp fiction che noi poi abbiamo citato spesso dicendo ma pulp fiction in italia ha avuto radici culturali molto però a quanto pare il box office dice ce l'ha avuta più spqr dobbiamo arrenderci all'evidenza questa è evidenza sono fatti non sono opinioni sono fatti si molto divertente questa carrellata tra l'altro che hanno fenomenale quanti cazzo di bei film a parte spqr è l'unica macchia nera in quella lista si rivediamo queste classifiche proprio esattamente 30 anni fa facciamo tristezza da sole a ripensare che oggi non abbiamo neanche un decimo dei film così belli purtroppo abbiamo molti spqr ma quello è un altro problema ma mi annunciavi mi anticipavi che il morandini aveva molto da dire il merighetti io sono merighetti merighettiano mi è un po' stupito che mi aspettavo una di quelle recensioni brevine brevissime sardoniche ciniche invece vedo molto lunga rispetto ad altri ho detto ma fammi vedere che cacchio ha scritto vediamo che dice sorvola molto rapidamente sulla trama dicendo trasforitasi a Roma da Mediolan nome il giudice Antonio Servillo Boldi scopre la corruzione dei senatori convince Cesare Atticus De Sica a confessare per poter incastrare il potente lucio cinico Nielsen ma il senato ha un'idea tutta personale della giustizia un ottimo riassunto punto finisce qui il riassunto poi il resto è critica diciamo così il vanzina di Natale 1994 Carlo alla regia insieme al fratello Enrico anche alla sceneggiatura fa il verso addirittura a tangentopoli qualcuno si è scandalizzato per il qualunquismo dell'operazione tra parentesi gli italiani erano corrotti duemila anni fa perché non dovrebbero esserlo anche oggi ma sarebbe attribuire troppo alte intenzioni a un film solo fiacco e volgare due punti si ride poco non si capisce perché scomodare Nielsen da Hollywood dalla serie Pallotta Spuntata e ci si chiede perché Boldi non si affidi finalmente a un regista capace di valorizzarlo sta dicendo in modo molto elegante che Boldi fa cagare ironicamente poi di lì a due anni Boldi farà il suo primo e ultimo da quello che sappiamo film serio che è festival di Avati che ho già citato nell'altra puntata e andò insomma piuttosto male anche lì quindi ecco purtroppo forse non è un problema di regista però ha fatto anche Cucciolo che è un film serio molto serio finisce dicendo la figlia di Cesare Attico si è interpretata da Isabella Rocchietta ex smorfiosetta prodigio delle pubblicità tv ok punto ci teneva a dirlo smorfiosetta prodigio che è quella che ho chiamato la citazione rigorosamente da Boris cagna maledetta si esatto quindi non me ne voglia la Miss Rocchietta per carità non è una mera citazione e sentiamo invece il prete cosa ha da dire di questo film si abbiamo un ottimo donarfio sulla rampa di lancio che ci dice valutazione futile grossolano già annulliamo per forza ennesima farsa a base di antica Roma e guai di casa e cosa nostra trasportati 2000 anni fa questo film consente ancora una volta a De Sica e Boldi ben sorretti e ben sorretti e tra virgolette dal copione dei due vanzina i memori della lezione di stile del padre di sciorinare il solito campionario di grossolanità doppi sensi sguagliataggini che sembra le platee avide attendano con ansia per liberare con grasse risate la carica aggressiva e la frustrazione che la attanagliano quindi praticamente è un po' il calcio per gli ultra sta dicendo questo SPQR per il pubblico italiano la recitazione di De Sica e Boldi è quella di sempre sguagliata e superficiale senza decoro o meno un tentativo di conferire un po' di spessore al testo che spessore vuoi conferire che sono su scherzi a parte donarfio abbi pazienza anche tu la solita pagliacciata natalizia destinata al pubblico eterogeneo che ha fatto la fortuna dei produttori di beni di largo consumo sia culturali che materiali basati sul martellamento psicologico teso ad allentare i freni naturali che si dovrebbero opporre in persone pensanti allo strapotere all'aggressione della quantità e della volgarità a discapito della qualità e dell'intelligenza ma avete fatto un cazzato narfio mai sentito come si arrabbiato mamma mia sei proprio ingazzato quasi mi aspetto che finisca con meditate gente meditate si una pestimmia non so che dir si voglia i mortacci vostri che mi avete fatto vedere questo film si non so come poteva come poteva finire di nuovo concordiamo diciamo si noi ci fermiamo un po' prima non andiamo proprio a tutto questo complesso pardon giudizio sul pubblico e sul martellamento psicologico però si diciamo dalla parte nostra come al saluto col meme ci chiediamo ma perché la gente ha tutta sta voglia di vedere sta merda onestamente cioè va bene il film comico io non critico la voglia di volersi ricreare di voler vedere un film comico ma vedete una cosa decente mannaggia ecco donarvi e no ma secondo me il vero dubbio è non tanto il perché vanno a vedere o trovano la libertà ma il perché si è ricordato così tanto perché abbia influito così tanto nella memoria un filmetto così che noi abbiamo trovato molto noioso con pochissime battute poi alla fine però è ricordato con una sensazione positiva perché evidentemente ha fatti ridere quando erano bambini e sono andati al cinema con i genitori non in colpo tanto i spettatori dell'epoca quanto quelli che magari oggi se lo riguardano con gusto allora lì viene un po' il dubbio ma che gusto eh sì anche perché poi insomma guardando una piattaforma moderna come Letterbox comunque recensioni positive ce ne stanno anche parecchie e non capisco perché tipo 5 stelle timida cara con sta fascia da zoccola questa citazione che fa ridere tantissimo che ti devo dire che ti devo dire secondo me molti di questi li danno sulla memoria non sull'averli rivisti di recente perché va bene anche se piace quel genere di commedia di umorismo ce n'è veramente poco comunque sono certo ci siano un film molto più rappresentativi anche di quel tipo di umorismo che qui non trovo cioè già simpatici antipatici per quanto anche quello aveva problemi di ritmo e di poca commedia rispetto alla durata del film secondo me c'è di più lì che in questo film di SPQR se vogliamo calcolare proprio il numero di risate o di battute che possano essere fatte la memoria la memoria frega sai dopo tanti anni uno dice ah si mi ricordo era divertente da 5 stelle su letterbox così sulla fiducia non mi spiego perché questa cosa di Iside fa male a pompa dovrebbe essere questa battuta così memorabile però cioè confesso che in effetti è l'unica cosa vagamente memorabile però fa cagare quindi ecco io spero di non ricordarmela anche fra 5 minuti va bene uguale se me la scordi forse è quella che ha fatto incazzare ad ora Arfio proprio quella forse sì forse sì dunque consigliamo di rivederlo io come al solito qui siccome siamo nella serie testa inaugurata dei mal ricordati di cui faceva parte anche fracchia contro dracola ma non l'abbiamo detto all'epoca io direi la stessa cosa che forse ho detto in fracchia contro dracola non mi ricordo ma in quel caso ve la dico adesso se avete un buon ricordo di questo film e volete rivederlo per confermare il vostro buon ricordo rivedetelo perché fa bene mettersi di fronte all'orrore mettersi di fronte al brutto mettersi di fronte al fatto che siamo esseri umani fallibili e la nostra memoria è forse la cosa tra le più fallibili che abbiamo e che invece diamo per scontata quindi ecco se avete un buon ricordo rivedetelo se avete un cattivo ricordo va bene così non c'è bisogno di rivederlo tenetevi il vostro cattivo ricordo perché ci avete ragione ecco direi così voglio aggiungere che chi volesse rivederlo per verificare se la memoria era giusta non lo fate col cellulare in mano non vale distrarsi voi ve li vedete tutti quei minuti del cazzo noiosissimi di gag che vanno si protraggono troppo oltre che dici vabbè basta andiamo avanti perché è lì che è lì che valuti davvero il film non che alzi gli occhi quando c'è qualcosa divertente e poi ritorni sul cellulare a guardare TikTok inoltre aggiungo il mio consiglio è vietate ai minori di 35 anni perché non capirete le battute di sicuro non vi faranno ridere molte delle battute tra quelle che non capite quelle invecchiate malissimo riferimenti a un'Italia che all'epoca erano chiari ma ora non lo so più quindi vietate ai minori di 35 anni dovrebbero stamparlo se sei nato dopo gli anni 80 non è il film per te e con questo possiamo anche concludere questo episodio e grazie per averci ascoltato di tutto alla prossima allora grazie per averci ascoltato ciao ciao ciao